Ho dovuto manomettere il monitor. Ho mangiato tanto sale a colazione. Credi anche tu che io sia represso? Credo che rischi di venire dissolto dai tuoi acidi gastrici. Ah sì, e Chase? Ci credi a questa sciocchezza della castità? Non lo so, ma tifo per lui. Prova a leggere gli studi. Meno partner hai, più sarai felice con il partner giusto. Tu allora sarai infelice. Per quegli studi è importante che ci sia un gruppo di controllo. Ecco il tumore nel pancreas. E ce n'è uno nel rene. E uno nel colon. Uno sembra non vascolarizzato. Uno vascolarizzato e il terzo sembra calcificato. Ha tre tumori completamente diversi insieme. E nella media. Non è così fortunato, dopo tutto. No. No. Grazie a tutti